Andiamo ora ad analizzare alcune delle tematiche fondamentali nell'opera di Pirandello, fondamentale è ad esempio il tema dell'identità, chi sono io come individuo, sono sempre la stessa persona in qualunque tempo e luogo e per chiunque, il ruolo sociale e le convenzioni borghesi è un'altra tematica, correlata peraltro alla prima, perché secondo Pirandello proprio le convenzioni sociali e il ruolo sociale che noi abbiamo ci costringono, ci obbligano a comportarci in una determinata maniera e anche ad assumere in sostanza una maschera a recitare la nostra parte. Una parte che a volte non corrisponde, può non corrispondere ai nostri desideri, però non possiamo evitare di farlo. E realtà o finzione, forse il dubbio, il problema, se la vita è quello che noi crediamo vero, sia realmente reale, sia realmente vero, è un'altra delle tematiche fondamentali di Pirandello. Quindi siccome noi recitiamo, allora la vita è forse tutta un grande teatro, una grande pupazzata, come egli dice, una grande messa in scena, una farsa, e forse noi non ce ne rendiamo conto perché il sipario e la scenografia sono ben fatti e perché non si apre nessuno squarcio nel cielo di carta del nostro teatro. Ecco, la realtà è realmente reale, insomma sono tutte domande che escono fuori leggendo le opere di Pirandello. E anche la verità, la verità con la V maiuscola, cioè l'unica verità, la verità vera, esiste, perché se neanche noi sappiamo bene chi siamo, se anche noi forse cambiamo con il tempo o a seconda di chi ci conosce, forse cambia anche la verità a seconda del punto di vista. E questa è di nuovo una delle tematiche fondamentali nelle opere di Pirandello. E inoltre, essendo grande autore di teatro e volendo appunto creare opere che instillino il dubbio, facendo anche divertire, Pirandello ci parla dell'umorismo. Che cos'è l'umorismo? La differenza tra il comico e l'umoristico. E di questo Pirandello parla in un famosissimo saggio del 1908, di cui andremo a leggere alcune parti. Esempi in cui sono lampanti le tematiche di cui vi ho parlato sopra, si trovano in tantissimi testi. Io qui ne ho elencati alcuni perché li ho scelti come letture da proporvi. Per esempio, nella novella Il treno affischiato, abbiamo un personaggio che vive una vita monotona, anzi pesantissima, tragica quasi, lavora tutto il giorno e anche di notte per riuscire a mantenere una famiglia pesante e piena di problemi. E un giorno, una notte, anzi meglio detto, sente, ascolta, per caso, il fisco del treno che sta passando. Passava sempre il treno di lì a quell'ora di notte, ma evidentemente non ci aveva mai fatto caso. Ecco che forse tutta quella vita così pesante, tutta quella sopportazione, è arrivata a un punto di saturazione, a un limite. E quel fisco del treno assume un significato liberatorio, fa sì che il protagonista si accorga che c'è anche un mondo fuori. Lo sapeva già, ma viveva come se fuori non ci fosse nient'altro, perché è obbligato in quella maschera che si era dato peraltro lui stesso, maschera del lavoratore, sempre puntuale, sempre presente, anche sottomesso agli scarsi dei compagni, perché comunque è incapace di ribellarsi in una situazione molto difficile. E quindi di colpo il fisco del treno fa scattare in lui qualcosa e il suo comportamento cambia. Cambia ovviamente di colpo e gli altri lo credono pazzo, viene ricoverato in un reparto per matti. Non vi aggiungo altro, perché chiaramente vi rovinerei la sorpresa della lettura, però vedete che chi comincia a rendersi conto forse che la vita non è tutta nel ruolo che ha assunto, nella maschera che indossa, guarda oltre e cambia magari atteggiamento, esce fuori, per così dire, come dice Pirandello, un po' dalla propria maschera, e viene spesso considerato matto, pazzo, uscito fuori di senno. Un altro testo estremamente divertente è La Patente. Anche La Patente è una novella inserita nella raccolta novelle per un anno, ma è anche una pièce teatrale. Personalmente trovo molto più divertente la pièce teatrale, tuttavia vi lascerò la scelta se leggere la pièce rappresentata o leggere la novella. E in questo caso abbiamo un uomo, sventuratissimo, perché è ritenuto da tutti un uomo che porta sfortuna. Quindi quando passa per strada ecco che tutti fanno le corna, ecco che fanno tutti gli scongiuri. E lui che fa, pian piano perde il lavoro, nessuno vuole sposare le sue figlie, e allora vuole ufficialmente indossare la maschera dello iettatore, cioè di colui che porta sfortuna, e fa una pubblica denuncia ad alcuni personaggi che, per così dire, avevano fatto degli scongiuri, avevano fatto le corna o quant'altro, vedendolo passare. Chiaramente con questa denuncia lui è destinato a perdere la causa, a perdere il processo, perché da anni tutto il paese, vedendolo passare, fa ogni sorta di gesto scaramantico. E tuttavia lui ha proprio bisogno di perderla questa causa, perché così, in questo modo, anche il tribunale ufficialmente riconoscerà che lui effettivamente ha questo potere di portare sventura. E da questa maschera bruttissima che gli altri gli hanno appiccicato addosso, lui sarà capace di trarre guadagno e di riuscire appunto a vivere, perché al momento è senza sostentamento, senza più fonti di guadagno, proprio a causa di questa sua ingiustificata fama. Nella signora Frola e il signor Ponza suo genero, anche questa è una novella, tratta da novelle per un anno, che ha il significativo titolo, così è se vi pare, nella forma teatrale, come spesso uno si può rendere conto leggendo i titoli e leggendo anche le trame, Pirandello scrive novelle e poi ne ricava la pièce teatrale, oppure viceversa, scrive una trama di un'opera teatrale e poi ne ricava la novella, quindi abbiamo spesso le stesse storie in due forme. E in questo caso non sappiamo chi sia il pazzo e chi no. Un paesino, di gente chiaramente è un piccolo paese di provincia, quindi la gente è curiosa, è pettegola, arrivano dei nuovi abitanti, il signor Ponza con la moglie, una donna che rimane sempre chiusa in casa, non esce mai, e la signora Frola che sarebbe la suocera del signor Ponza, alla quale il signor Ponza stesso, impiegato comunale, ha affittato un appartamentino in centro città, non lontano da dove vivono loro. E qui il problema nasce quando il signor Ponza e la signora Frola incominciano a raccontare entrambi, ciascuno, la propria verità. Secondo la vecchina, la signora Frola, la moglie del signor Ponza, è la sua figliola e lei tutti i giorni si rieca a farle visita, ma non può entrare in casa perché la donna rimane chiusa. Si parlano, la giovane dal balcone, la donna più anziana in basso, si passano dei messaggi e degli oggetti con un panierino che la giovane cala giù. E quindi il paese comincia a chiacchierare e dice ma è possibile che quest'uomo sia così geloso della moglie, la tenga segregata in casa, eccetera, eccetera. E la signora Frola appunto dice no, ma è molto buono, il signor Ponza tratta benissimo la sua sposa e ne parla molto bene. Quando poi si viene a sapere la versione del signor Ponza, che tra l'altro è di aspetto brutto, quindi antipatico, già suscita impressioni negative, quindi c'è anche questo aspetto importante, e il paese non sa più cosa pensare, perché il signor Ponza dice che sua moglie in realtà non è affatto la figlia della signora Frola, che è morta anni addietro, ma è la sua seconda sposa, che per carità verso questa vecchina che non ha saputo accettare la morte della figlia, fa finta in sostanza di essere sua figlia, però non si sente di riceverla a quattro occhi, ma rimanendo chiusa in casa le parla di lontano. E quindi la signora Frola, così gentile, così aggraziata, sarebbe in realtà pazza. La signora Frola il giorno dopo smentisce di nuovo la tesi del signor Ponza, dice povero uomo, è tanto bravo, ma il pazzo in realtà è lui. Mia figlia, per il suo grande attaccamento, la sua grande gelosia, ha avuto una crisi di nervi, è stata ricoverata in una clinica e lui ha pensato che fosse morta quando gli è stata ripresentata, ha pensato a una seconda moglie. E si va avanti così, e il paese, immaginatevi un paesino di provincia, dove si chiacchiera, non ci si fa tanto gli affari propri, non sa che cosa pensare. Quindi la verità qual è, guardate il titolo della piazza teatrale, così è, se vi pare, è quella che ciascuno ha in sé, dentro di sé, cioè la verità una non esiste, ma ce ne sono tante a seconda dei punti di vista. Nella novella appunto la situazione viene lasciata sospesa, nel dramma teatrale invece c'è una possibilità, ed è quello che succede, cioè fare entrare in scena la giovane moglie del signor Ponza e chiederle chi è. E effettivamente questo succede, il pubblico è tutto preso dalla suspense di sapere, finalmente la risposta, curioso, e questa donna, che di solito, se guarderete qualche rappresentazione teatrale di questa novella, che si intitola in teatro così a esse vi pare, questa donna che compare alla fine in controluce, lungi dal rivelare qualcosa, dice io sono colei che mi si crede, e quindi lascia ciascuno con il proprio dubbio. Grazie. 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 Grazie.